sistemiamoci buongiorno cari amici bentornati al nostro salotto virtuale un tè con elena è domenica bella giornata di sole anche se comincia a fare un po fresco allora volevo ringraziare quelli che già stanno cominciando a seguirmi perché sono molto felice sono felice ovviamente di successo fama e soldi no sto scherzando sono molto felice che un argomento come quello dei libri possa interessare le persone perché a volte dire i libri molti ti guardano con sospetto uffa che barba uffa che noia come se ci fosse quasi un timore no invece i libri sono finestre e porte spalancate sul tempo su altri mondi sullo spazio e quindi il fatto che qualcuno possa essere magari incuriosito e abbia voglia dopo aver seguito il mio video di andare a comprare o a prendere in prestito quel libro mi sembra una cosa buonissima allora abbiamo parlato e oggi volevo forse un po questo l'argomento di finestre su altri mondi vi volevo parlare di un autore che è nato a un autore americano nato nel 28 che è stato definito uno dei più grandi scrittori dell'america del dopoguerra che risponde al nome di philip k dick magari il nome non dice agli appassionati ai non appassionati di fantascienza magari non dice molto poi per chi ama la fantascienza ovviamente è un un maestro ma tutti avranno visto film tratti da suoi romanzi e racconti vi dico uno per tutti il capolavoro blade runner è stato per esempio tratto da un suo romanzo il cui titolo è lungo non me lo ricordo mai ma gli androidi sognano pecore elettriche il grandissimo film di ridley scott che tutti abbiamo visto è veramente un capolavoro purtroppo philip k dick ebbe una vita abbastanza tormentata sicuramente dal punto di vista economico e il film uscì dopo la sua morte è il film che lo consacrò a livello veramente intergalattico ma sono stati tratti altri film dai suoi dei suoi romanzi per esempio minority report atto di forza eccetera eccetera il libro di cui vi parlo oggi magari a molti non sarà noto ma tantissimi avranno visto la serie televisiva bellissima che viene non voglio far pubblicità però è su amazon che si intitola l'uomo nell'alto castello la serie il romanzo è del 62 ed è stato pubblicato era pubblicato con due t in realtà il romanzo lo stesso poi ci sono delle differenze ovviamente fra serie romanzo anche perché la serie abbastanza lunga sia come l'uomo nell'alto castello ma anche la svastica sul sole quello che ho io vedete è di fanucci editore philip k dick la svastica sul sole allora è un romanzo non si può definire fantascienza mi sono informata perché sono molto colta il termine con cui è definito è romanzo u cronico allora io non sapevo sinceramente cosa volesse dire per cui ho aperto il mio bel dizionario allora i romanzi u cronici sono quei racconti era uscito anche un libro la storia fatta coi sé cioè in cui lo scrittore l'autore immagina che alcuni nodi storici che sono andati in un certo modo fossero diversi tipo non so immaginiamo napoleone vince la battaglia di waterloo come sarebbe stata la storia successivamente o che ne so giulio cesare non è stato accoltellato e quindi quindi come la storia come se in un universo parallelo la storia fosse la storia quella con la s maiuscola poi si è andata in una direzione diversa a seguito di un evento che è avvenuto non è avvenuto è avvenuto in maniera diversa per cui questo è un romanzo u cronico ok per cui abbiamo imparato io ho imparato un termine nuovo di cui farò sfoggio nelle mie conversazioni allora cosa racconta praticamente parte da un presupposto noi sappiamo come purtroppo quel grande dramma della seconda guerra mondiale come andata a finire gli alleati cioè america inghilterra francia russia hanno vinto poi vabbè l'italia aveva cambiato strada facendo idea diciamo così per cui la germania il terzo rai ha perso e il giappone ha perso purtroppo si è conclusa poi la guerra in giappone con hiroshima e zaki però invece philip k di chi immagina una storia diversa cioè franklin dell'anno rosso russo in realtà aveva subito davvero un attentato perché sono elementi storici veri che nel 33 aveva subito un attentato da parte di un anarchico italiano robert roberto zangaro in realtà vabbè nel libro è stato ucciso quindi cosa succede il presidente muore in questo attentato continua la grande depressione sapete che ha segnato gli stati uniti e l'america lo scoppio della seconda guerra mondiale si trova in una situazione un po di isolazionismo quindi hitler e la germania nazista e il giappone hanno vinto la guerra allora l'italia proprio perché durante la seconda guerra mondiale dal punto di vista ovviamente del terzo reich era stata una traditrice perché poi sapete era stato deposto mussolini eccetera eccetera quindi si è presa un po le bricioline l'europa praticamente è tutta in mano al terzo reich alla germania nazista che continua che ha conquistato anche tutta l'africa conti è andata avanti la politica di sterminio di tutti i cosiddetti essere inferiore per cui per cui gli ebrei i rom anche gran parte delle popolazioni africane l'africa è diventato una specie di deserto e in america cosa succede l'america allora scusate il giappone si è preso tutta la parte est è compresa tutta la russia eccetera l'america viene divisa tra germania terzo reich diciamo e giappone tra costa est e costa ovest quindi l'impero giapponese ha occupato anche l'asia orientale l'oceania e la costa orientale degli stati uniti d'america la germania ha preso tutta la costa occidentale in mezzo c'è la zona delle montane rocciose che è un po una zona cuscinetto hitler è ancora al ancora al governo perché non si è suicidato nel bunker di berlino è sopravvissuto e continua a governare borman è ancora cancelliere göbers heidrich goering e altri che sono erano i grandi gerarchi nazisti cercano però di prendere il posto di hitler di prendere il potere questo io vi dico solo l'incipit poi è un romanzo da leggere tutto si svolge attorno tutto ruota un po attorno a due libri uno è la cavalletta non si alzerà più che è un libro proibito nel terzo reich perché in realtà racconta che la germania è un romanzo cronico nel romanzo cronico che la germania in realtà abbia perso la seconda guerra mondiale e il famosissimo libro che è quello dell'oracolo degli ching avete presente quelle con le monete con i trattini interi trattini separati è il libro dei mutamenti viene chiamato allora molti avranno già visto la serie vi invito a vederla perché è molto bella e vi invito a leggere di questo grande scrittore anche altri romanzi ma partire da questo secondo me interessante philip k dick la svastica sul sole il mio non so se sono altre edizioni è di fanucci editore detto questo in questo poi vabbè vedremo no volevo fare considerazione ma siamo vicini alle lezioni domenica prossima per cui non le faccio detto questo mi sa che quasi ora anche di andare a pranzo e cominciamo avvertire un certo languorino vi invito se il video è stato di vostro gradimento e interesse a mettere un like se poi andate a vedere anche gli altri video tra l'altro ricordo la nuova veste grafica curata da questa bravissima al momento ancora studentessa ma è già avanti che si chiama giulia grassi che ha fatto anche il ril carino che mi mette a posto tutti i video con la copertina iniziale per cui un bacione giulia continua a lavorare così che sei bravissima se il canale vi piace un tè con elena su youtube iscrivetevi vi auguro un buon pranzo una buona domenica e delle buone letture ancora all'aperto magari col maglioncino perché comincia a fare freschino almeno in brianza grazie a presto ciao ciao alla prossima